La nostra posizione si va sempre più confermando, non solamente per una questione di merito, nel senso che non ci hanno ancora dato le risposte che chiedevamo, le stiamo chiedendo da settimane. In tutti gli interventi in aula e anche quelli del sottoscritto abbiamo sempre chiesto delle risposte. Abbiamo presentato tanti emendamenti, noi non stiamo facendo istruzionismo, noi stiamo facendo proposte di merito. Però stiamo vedendo che anche sul metodo stiamo esagerando, perché è vero che la tagliola non è ancora stata applicata, sappiamo benissimo tutti che visti i tempi, visti gli emendamenti e visto e considerato che il Ministro Boschi preferisce a merito il metodo, sappiamo benissimo che arriveremo ad applicare la tagliola. Ne hanno parlato in più di un'occasione nella conferenza di capigruppo, ne ha parlato più di un capigruppo dicendo io non la voglio applicare. Poi alla fine sappiamo che verrà applicata perché se l'otto deve essere la data ultima per portare a casa un provvedimento che in un altro periodo storico sarebbe stato portato a casa magari anche in tempo un po' più lungo, oggi come oggi l'unico strumento che hanno è quello. Stanno pensando di trattare ogni emendamento per massimo un minuto. Siamo al paradosso, siamo al ridicolo. Perché la capigruppo è stata riconfermata come deadline l'8 di agosto? Sì, hanno parlato ancora dell'8 di agosto e lavorando sabato e domenica facendo circa 13-14 ore al giorno pensando di spaventarci, pensando di dire adesso chi fa opposizione forse cambierà idea. A me non spaventa questa cosa, io ho senatori determinati che sono qui, sono in aula, sono qui per parlare di riforme costituzionali, non per fare ostruzionismo e di conseguenza se vogliono andare fino all'8 andiamo fino all'8, se vogliono andare anche fino al 15 agosto noi siamo pronti a lavorare anche fino al 15 agosto, anche 24 ore al giorno. Problema che io ho detto ai miei colleghi, i senatori hanno più di 40 anni generalmente, se lavoriamo così tante ore voglio vedere, il mio gruppo è relativamente giovane, voglio vedere gli altri gruppi come faranno a tenere in aula gente che ha il doppio dei miei anni, che ne ho 42. Ma lei, insomma, Caderoli che...